Ciao a tutti, eccomi con il video che penso buona parte di voi stia aspettando per il contest, per ricevere lo schema in regalo di questi orecchini che poi ci sono anche gli altri dietro eccoli qua allora, innanzitutto io ringrazio tutte le persone che hanno commentato sotto ai due video quelli del canale vecchio e quello nuovo che vi siete iscritte, vi ringrazio tantissimo ho avuto modo di vedere che hanno partecipato a questo contest persone che non sentivo da parecchio perché poi non facendo più video e quindi mi ha fatto piacere leggere i vostri commenti, i vostri incoraggiamenti vi ringrazio veramente di cuore allora, io per fare questa scelta mi faccio aiutare da questo sito che è Random Number Generator che è praticamente inserendo i numeri delle partecipanti da 1 a 78 perché ne siete 78 poi cliccando su questa dove c'è scritto Generate uscirà il numero di una di voi e che riceverà questo schema 5 di voi anzi allora, io su un foglio ho messo i nomi e ieri sono stata tanto tempo a leggere e a commentare tutti i vostri commenti insomma che mi avete mandato sotto ai video e quindi ho deciso di segnare i vostri nomi su un foglio con i numerini a fianco voi controllate insomma io faccio in questo modo molto molto tecnologico dove ci sono i nomi di tutti coloro che hanno deciso di partecipare che hanno scritto sotto al video che partecipano ecco qua andiamo da quest'altra parte se vedete cancellato è perché non mi ero resa conto che magari c'era stato più di un commento io te l'avevo inserito due volte ecco qua spero di non aver fatto errori ho controllato e ricontrollato poi c'è il foglio dietro un attimo che giro sempre in maniera molto tecnologica ecco qua 74 le ultime 4 eccole qua quindi di nuovo ringrazio veramente a tutte quante voi che avete deciso di partecipare per poter ricevere questi orecchini e allora io comincio attenzione allora auguri a tutte il primo risultato è 15 come potete vedere in questo punto qua il numero 15 vediamo chi è nella lista e rosa balestrieri conosco benissimo rosa e auguri riceverai lo schema con una mail magari mi contatti ok numero 15 secondo andiamo avanti 28 28 vediamo chi è il 28 28 andiamo più giù notte sopra eccolo qua i bijoux di manola ok allora manola mi contatterai e ovviamente come ho detto anche nel video l'unico requisito è sapere se siete iscritti al nuovo canale perché è quello l'intento diciamo di dare un regalo a coloro che si iscrivono al nuovo canale a 5 di coloro che sono iscritti al nuovo canale quindi il secondo numero è 28 i bijoux di manola ok terzo numero terzo numero allora andiamo qui numero 8 terzo numero al numero 8 numero 8 e sogni svaro un'altra amica che conosco e sono contenta insomma per te che riceverai questo schema ok poi ci sentiamo allora terza adesso andiamo alla quarta la quarta scusate la quarta è 74 adesso è un numero più grande andiamo dall'altro lato 74 che è 74 Elena Alberio altra amica che conosco insomma ok Elena allora ci sentiamo quindi siamo alla quarta adesso dobbiamo fare l'ultima l'urlo di tamburi scusate allora l'urlo di tamburi l'ultima è 47 vediamo vediamo 47 47 Anna di Buonaventura 47 ok Anna anche tu contattami ovviamente sempre il requisito che siete iscritti al nuovo canale anche perché comunque avete commentato sotto al video io ho inserito in questa lista anche coloro che hanno sia commentato da un lato che dall'altro quindi insomma ok queste sono le cinque persone che hanno vinto lo schema contattatemi e niente per chi fosse interessato ovviamente io comunque lo schema ce l'ho disponibile e spero insomma io comunque farò altri altri contest quindi se volete continuare a iscrivervi al nuovo canale io sto facendo un nuovo schema poi magari ve lo faccio vedere ve lo mostro e farò sicuramente un altro contest per presentare anche quell'altro schema questi sono gli orecchini vabbè giusto per concludere mettiamo solo sia rossi che turchesi le ho fatte anche un altro colore che vi ho mostrato eccoli qua ok io vi saluto su questo su questa foto su questo scusatemi su questo su questi orecchini e sono emozionata ok allora un abbraccio a tutte e alla prossima ciao